No, non sono diventato un'amongas. Oggi facciamo il lavoro dell'impermeabilizzazione. Un po' di acqua calda e un panno prima di mettere il nastro. Mettiamo il nastro impermeabilizzante da questo lato, che è il lato della veranda dove poi appunto la monteremo. Mentre dall'altro lato ci penseremo. Ci penseremo nel senso che lo faremo in un secondo momento con tutta calma. Un po' di acqua 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 calma.